Ciao ragazzi, sotto grande richiesta ecco un video su come risparmiare la batteria sul portatile con Linux Allora, prima di tutto andiamo a installare un tool chiamato LaptopModeTools Una volta installato accediamo al pannello di configurazione grafico tramite, penso, lmtconfiggui Dobbiamo lanciarlo come root Questo è il tool di configurazione grafico Che cosa consiste? In una serie di ottimizzazioni, alcune generiche, alcune mirate su certi modelli Tipo questo qui è un'ottimizzazione che pesco a caso è Per gli EEPC, si dice Oppure per alcuni controlli tipo il controller audio AC97 eccetera eccetera Ora vi faccio vedere un attimo come funziona Abbiamo questo elenco di ottimizzazioni possibili da attivare o disattivare Però non è tutto così semplice come può sembrare Ad esempio qui abbiamo Enable Module LCD Brightness Che cosa fa? Controlla la luminosità dello schermo LCD in base al consumo della batteria In base allo stato della batteria Oppure abbiamo questa impostazione che funziona soltanto con le Linux Virtual Console Che dice Regola automaticamente il tempo prima di spegnere la console testuale Oppure abbiamo questa impostazione che non fa altro che eseguire particolari comandi o script che noi definiamo Quando ci sono cambiamenti nello stato di batteria che noi definiamo Attualmente non ho definito niente e lo tengo disabilitato Questo gestisce il Bluetooth Però ecco io terrei disabilitato il Bluetooth e disabilitato questo Fossi in voi Poi c'è il DPMS Standby Così gli diamo in mano il controllo del Timeout e dello schermo in Standby Ad esempio questo sicuramente vi servirà perché Che cosa fa? Abilita il modulo di Power Save Di risparmio energetico per le schede Intel HDA Quasi sicuramente moltissimi, la maggior parte, la grande maggioranza di voi Avranno la scheda audio Intel HDA E questo è proprio comodo Poi abbiamo Runtime PM Che è un Power Management a livello Kernel Start Stop Programs Ecco questo ad esempio Vedete c'è la descrizione abbastanza completa, abbastanza esaustiva Dentro è etc, laptop mode E poi varie cartelle Battery Stop, Battery Start, LMA C Stop, LMA C Start Eccetera eccetera Ad ogni cambio di status Potete far eseguire degli script appunto Che accettino dei comandi stop o start Tipo i servizi etcinit.d E' tipo un etcinit.d Dove però gli eventi sono di queste cartelle qua Ecco attualmente è vuoto Perché io non l'ho configurato Vi faccio anche vedere Cominciamo a andare dentro la configurazione di questi parametri Perché da qui si vedono solo delle spunte In realtà quello che fanno E' abilitare dei moduli che hanno dei file di configurazione Ognuno di questi moduli Non proprio tutti Hanno un file di configurazione che possiamo modificare Quindi vado in Prima di tutto divento root Vado in cd.etc.laptop.mod E guardate Cosa abbiamo Battery start, battery stop Conf.d Dove ci sono tutte le configurazioni dei moduli Appunto Entriamo dentro la cartella Conf.d E vediamo i file di configurazione Voilà Ecco qua infatti Vedete che ognuna di queste opzioni Ha pressoché un file di configurazione Ad esempio Vediamo il prossimo NMI Watchdog Ok forse questo non ce l'ha Perché questo che cosa fa Si è abilitato Configura l'NMI Watchdog Il suo timer Per risparmiare energia Che cosa serve L'NMI Watchdog serve per rilevare Quando un processo Un clock va in loop Non sono sicuro che qui NMI Nano NMI Watchdog Si c'è un file di configurazione anche per lui Ah ma è molto semplice Debug Si o no Se vuoi lasciare delle tracce di debugging Oppure Control multicore power saving For the process scheduler Zero to disabled Qua è in automatico Insomma lo lasciamo così Nel dubbio se non sappiamo cosa stiamo facendo O ci documentiamo O lo lasciamo così Enable module Configuration file control Questo è interessante Perché praticamente Vi permette di Evitare di fare Di scrivere fisicamente I log sul disco Per le tipologie di log Che voi gli dite Ad esempio qua Fa un esempio Con mail.log Che di solito Non è una buona idea Ma è solo un esempio Molto casuale Di default Quando ci sono degli eventi Nel vostro sistema I log Vengono scritti In tempo reale Ecco L'unico problema È che questo provoca Che il vostro disco Si accenda Posizioni la testina E cominci a scrivere fisicamente Questo Consuma energia Certi log Poi vengono scritti Veramente Veramente Spesso Abilitando questo E andando a configurare Di disabilitare Un certo tipo di log Lui non scrive i log Molto semplicemente E questo vi risparmia La scrittura E quindi risparmia batteria Bisogna vedere se ne vale la pena Configuration File Control Config files Ecco qua Guarda È già preconfigurato Per Syslog.conf Syslog.ng.conf R-syslog.conf Questi tre log qui Se noi abilitiamo questo parametro Non vengono scritti E questo è quanto Adesso lo tengo abilitato Così lo proviamo un po' Ok Questo praticamente Non l'ho capito bene Quando la batteria Ha dei cambi di Ha dei cambi di status Questo modulo Reagisce Che cazzo vuol dire Questo risparmia Batteria Sulle PCI Express Questo risparmia batteria Sull'Intel SATA AC Controller Questo risparmia batteria Sulla C97 Che è Tipo La versione precedente Dell'HD audio Però ce la avete Quasi tutti Dipende Poi abbiamo Questo Che è particolarmente Carino Perché dice Non importa Se hai un monitor Collegato Oppure no E dove è collegato Ma una porta video Una presa video Sul tuo computer Consuma comunque Corrente Quindi abilitti questo E ti disabilito Le prese video Però io lo lascio Disabilitato Perché attualmente Non ho niente in utilizzo E poi comunque Sono in una macchina virtuale Questo è una serie Di ottimizzazioni energetiche Per una serie Di schede Wireless Dell'Intel Questo è per risparmiare Energia Disabilitando Il lettore CD DVD Questo fa risparmiare Energia Sull'Ethernet Ecco Questo è interessante Andiamo anche dentro Al file di configurazione A configurarlo a modo Fermo restando Che ognuno di questi moduli Poi Per fare un bel lavoro Bisognerebbe Quando lo si abilita Andare a modificare Il file di configurazione Quindi nano Ethernet Ecco Questo che cosa fa? Vediamo le opzioni Di questo modulo Vabbè Debug Vogliamo dare il risparmio energetico Mettimi la velocità A 100 megabit Anziché A 1 gigabit In ogni caso Queste cose Io non le abilito Perché non ho La presa Ethernet Però vi faccio vedere Un po' i parametri Che si possono impostare Tra cui Disable Wake up On LAN Che sarebbe Il wake on LAN Quello che Quando avete il computer Spento O in standby Se mandate Un pacchetto Forgiato appositamente Per svegliare Il MAC address Della vostra scheda di rete La vostra scheda di rete Fa tornare Il computer Dallo standby Invece in questo modo Mettendo 1 Disabilitiamo E quindi spegniamo Proprio la scheda di rete Poi Qui c'è la lista Delle schede di rete Su cui applicare Queste modifiche Ethernet 0 In questo caso Anche perché è l'unica scheda di rete Che idealmente ho Anche se fisicamente Non esiste Perché questa è una macchina virtuale Disable Ethernet on battery Ecco per esempio Mettendo così Quando siamo sulla batteria È perché probabilmente Usiamo il wifi Quindi ci disabilita La porta Ethernet Questo può essere intelligente Magari invece no Dipende Dall'utilizzo Che ne fate voi Come vedete Questa è una cosa Molto personale Fra le altre cose Sempre sul discorso Della velocità Della scheda di rete C'è un comando Che potete dare Per capire Qual è la Più bassa Velocità Della scheda di rete Che potete assegnare Questo qua lo salvo Yes E si chiama ETH tools ETH tool E scrivete Ethernet 0 E poi qui vedete La velocità E le supported speed Auto ibernazione Beh questo è abbastanza chiaro Però sempre utilizzando L'ACP Se non funziona L'ACP Questo non funziona Ovvero Vi iberna Il laptop Automaticamente Quando la batteria Raggiunge un certo Livello Ma questo penso Che non sia niente Di nuovo Wireless EPE power Queste sono altre Ottimizzazioni Per altri Wireless adapter Queste sono Ottimizzazioni Per gli EEE Laptop Per gli EPC Questo serve a Configure Configure Che funziona Che funziona Che funziona soltanto Sui kernel 2.6 Quindi Uname Meno R Io ho il 3 Il kernel 3 Quindi in teoria Non dovrebbe funzionare Non sto neanche Diventare matto USB 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 auto Sospende Anche questo è interessante Perché Quando siete sulla batteria O comunque Definite voi Qual è l'evento Gli dite di Sospendere Di disabilitare Toglie la corrente Fisicamente Toglie la corrente Alle prese USB Andiamo a vedere Un attimo Nel dettaglio Nano USB Sospende Ok Allora Questo è interessante È interessante Perché avete Una whitelist E una blacklist E potete Categorizzare Potete dire A questo modulo Di usare Categorie Su cui mettere Whitelist O blacklist Ad esempio Blacklist USB HID E USB Storage Cosa fa? Toglie la corrente Alle prese USB Tranne Se è collegata Un mouse O una tastiera USB HID Human Interface Device O un USB Storage Che è una chiavetta O quant'altro Un hard disk Così In modo che Se state copiando Sulla vostra chiavetta Qualcosa Non venga spenta La chiavetta O in modo che Se va in Sospensione La porta USB Dopo con il mouse Che è magari USB Non riuscite più A riattivare Il computer Invece in questo modo Mettendolo in blacklist Non usano L'auto Suspend Invece c'è anche La whitelist Che chiaramente È la cosa opposta E qui avete I trigger Tipo Sospendi Le USB Su batteria Sì Che è quello Che è abilitato Attualmente Ecco Altra cosa Che si può fare È controllare In quanti secondi La sospensione Automatica Entra in azione Adesso Attualmente Due secondi Possiamo aumentare E ridurre Questo tempo Altra cosa Dunque Vabbè Intanto Questo Lo chiudo Anzi Chiaramente Prima Magari Metto Le regole Le metto Veramente USB Head E USB Storage Copy Ecco qua Così Le ho messi in blacklist Yes Ok Altra cosa USB Ok Resta solo SCAD MC Power Savings Che sarebbe Automatico Linux Schedule To save Multi Ok Sono ottimizzazioni Livello kernel Una volta che siamo pronti Facciamo applica E probabilmente Dovremmo riavviare Il servizio Ok Laptop mode Si chiama Restart Sta creando I symbolic link Per far evitare Al disco Di scrivere i log Quell'ottimizzazione Sulla scrittura Dei log Che vi dicevo Prima Da questo momento Dovrei cominciare A risparmiare Un po' di batteria Che dire Provatelo Io purtroppo Non riesco A provarlo Più di tanto Perché su questo portatile C'è Macintosh Questa è una macchina virtuale E le ottimizzazioni Per la batteria Funzionano Fino a un certo punto Non ha L'accesso diretto All'hardware Quindi potete immaginare Vorrei che lo provaste Mi diceste un po' Come vi trovate Se l'avete trovato utile Se avete visto Dei cambiamenti Oppure se fa soltanto Dei freezing Strani E cose particolari Vi posso garantire Che configurato Come si deve Non abilitando Modulo in eccesso E configurando ogni modulo Come si deve Dei problemi Non ce ne dovrebbero essere E anzi In effetti Si dovrebbe guadagnare Fino a qualche Oretta di batteria Intendo che Rispetto comunque A Windows E a Macintosh Linux Se non configurate Questo genere di cose Dura un'oretta Anche due in meno In alcuni casi E quindi Buona fortuna Fatemi sapere Ok Ciao